Questo è il vostro allenamento cardio intermedio. Sono qui con i miei compagni di allenamento Ashley e AJ. Andiamo avanti con qualche salto completo. Quindi fate ampi salti portando le braccia sopra la testa allargando le gambe il più possibile. È un ottimo esercizio per aumentare i battiti. Questo salto è il mio preferito in quanto si riesce a muovere il corpo nella sua totalità. Continuate. Ora il nostro prossimo esercizio è un ottimo riscaldamento. Quindi chiudiamo e riapriamo. Chiudete e aprite. Questo tipo di allenamento è fantastico in quanto scalda anche le vostre braccia. In questa fase iniziale, eseguiremo ogni esercizio per 30 secondi di fila, senza riposo. Controllate i vostri battiti. Altri due. Bene, fantastico. Ora continuiamo con un salto. Abbassatevi portando la gamba indietro e tornate su. Di nuovo giù. Ora in piedi. Di nuovo giù. Vengono coinvolti i bicipiti, facendo questi salti. Lavorano così i quadricipiti e anche i vostri glutei. Ricordate di respirare. Schiena bella dritta. Un altro ancora. Prossimo esercizio è un bel salto completo. Quindi andate giù. Salto pieno. Salto pieno. Questa è una bellissima mossa. Potrete iniziare a sentire i quadricipiti. Sfingete verso l'alto. Utilizzate le braccia per aiutarvi a saltare. Ancora due. Prossima mossa sarà scendere sul pavimento in posizione plank. Mantenete la posizione per un secondo. Per poi saltare in piedi con il corpo in avanti. Tornate di nuovo giù. E su davanti a voi. Mantenete le gambe ben divaricate. E portate in avanti il torace. Ottimo lavoro. Un altro ancora. Questa volta invece dalla posizione catcher mettetevi in piedi. Fate forza sui talloni e alzatevi in piedi. Saltate con le gambe divaricate. Ci siamo quasi. Dai, ancora altri due. Questo è l'ultimo. Prendete due secondi per respirare. Fate un respiro profondo perché nel secondo turno dovete ripetere gli esercizi per 15 secondi ogni volta. Fate un respiro profondo. E ora ragazzi è giunto il momento di iniziare a saltare di nuovo. Ricordate che stavolta avete i 15 secondi. Fate del vostro meglio. Potete farcela. Andiamo. Salti incrociati. Chiudete il corpo. Allargate le braccia il più possibile. Incrociate anche i piedi. Uno, due, ritorniamo quindi in posizione. Mezzo salto e in piedi. Di nuovo giù. Movimenti ampi e torace in fuori. Continuate a sorridere. Ok, ora aumentiamo la difficoltà. Salti completi questa volta. Andiamo. Cambiate. Muovetevi quando siete in aria. Tre, due, uno. Di nuovo sul pavimento. Mantenete la posizione per un secondo. Ci siamo, catcher. Catcher. Un altro ancora. E ora mettiamoci in piedi. Portate su i fianchi. Movimenti ampi. Ancora due. Ottimo lavoro. Fantastica anche questa sessione. Ecco a voi un allenamento cardio di cinque minuti. Siamo a corto di fiato e dovreste esserlo sicuramente anche voi. Ripetetelo se volete. Ottimo lavoro. Questa è di tutto. Grazie a voi. These are deiiva, tutti. Ok. E guardate la sensazione per un passaggio. P- Questa è di tutte. Grazie.